Ciao tifosi napoletani, benvenuti nel vostro canale di notizie quotidiane sul Napoli. Le ultime notizie da Castel Volturno portano brutte notizie per Calzone e Napoli. E oggi abbiamo avuto notizie anche sullo Stadio Maradona, dovremo giocare fuori casa? Resta con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli delle ultime novità dal mondo napoletano. Scopri tutto adesso. Stadio Maradona, novità importante dal Comune, annuncio sui lavori e sul trasloco. Continua a tenere banco il caso Stadio in quel di Napoli. Dopo le odierne rivelazioni del mattino, ecco giungere le dichiarazioni dal Comune sul Maradona. Torna ad essere un caso mediatico lo Stadio Maradona. Quest'oggi al centro della cronaca grazie alle rivelazioni rilasciate dal mattino. Secondo il Quotidiano infatti, l'impianto di fuorigrotta correrebbe seriamente il rischio di essere escluso dalla lista di sedi per 2.000, 32 euro. Con il Comune e la SSC Napoli corsi subito al riparo tramite un incontro per il restyling della struttura. Tra le tante opzioni rivelate dal Quotidiano, quindi, l'ipotesi Napoli in trasferta a Bari o Palermo per le proprie gare casalinghe, per permettere così la rapida riuscita dei lavori al Maradona. Sul caso, dal Comune, è però intervenuto Nino Simeone, presidente della Commissione consigliare ai trasporti, infrastrutture e lavori pubblici. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Nino Simeone ha tranquillizzato i tifosi del Napoli circa il futuro del Maradona, che a sua detta farà senz'altro parte delle sedi di 2.032 euro. Poi, le parole in merito ai lavori di ristrutturazione e all'ipotesi trasloco fra Bari e Palermo. Scongiurata però da Simeone nel corso di una lunga intervista, la città di Napoli sarà senz'altro parte delle cinque sedi italiane previste per 2.032 euro. Di conseguenza, anche il Maradona sarà aggiornato e sarà grande protagonista dell'evento. Fino ad ora, però, lo Stato non ha ancora versato un centesimo, e aspettiamo la comunicazione ufficiale circa la presenza di Napoli fra le sedi per parlare di lavori. Confermo che fra De Laurenti e Manfredi c'è stato un incontro prima di Napoli-Barcellona, e sono sicuro che si saranno parlati anche sulla questione stadio. Purtroppo questo non è un problema inerente solo a Napoli e alla propria squadra di calcio, ma presente in tutte le altre città d'Italia. Sin dalle prime battute dell'intervista, Simeone si è dimostrato alquanto contrario all'ipotesi Napoli in trasferta per garantire lo svolgimento dei lavori al Maradona, dichiarando di essere più propenso a seguire il modello già avuto in Italia con Udinese e Atalanta. Al Maradona ci sono senz'altro dei lavori di riqualificazione da fare e da mettere in atto per sistemare alcune pecche dell'impianto. Il mio augurio e la mia sensazione è che si segua un modello stile Udinese ed Atalanta, e dunque con le squadre in campo anche durante il corso di lavori di ristrutturazione settore per settore. Ripeto però che è ancora presto per parlare di ciò, e che lo Stato non ha ancora dimostrato vicinanza con noi dal punto di vista economico. I lavori inizieranno solo se e quando arriveranno i fondi per mettere mano al Maradona. Adesso siamo ancora nel campo delle idee e attendiamo provvedimenti ufficiali. Posso però dirvi che faremo di tutto per garantire lo svolgimento delle gare casalinghe del Napoli nello stadio, senza ricorrere quindi a traslochi a Bari o Palermo. Spostare così tanto un'intera tifoseria è complicato e non vogliamo che ciò accada. Qualora dovesse subentrare la necessità di dire addio momentaneamente al Maradona, sono sicuro che qualche altro stadio in Campania pronto ad ospitarci ci sarà. Ultimo ma non meno importante, ultimora Napoli, infortunio più serio del previsto per l'Azzurro. Che tegola per Calzona. Si aggrava la posizione del calciatore azzurro dopo l'ultimo report a cura della SSC Napoli. Le condizioni sono più serie del previsto. Di ritorno da Reggio Emilia dopo la splendida vittoria per 1-6 sul Sassuolo. Il Napoli Calcio ha quest'oggi ricaricato le energie all'SSCN Konami Training Center, cominciando anche a preparare l'imminente sfida in campionato contro la Juventus. Domenica 3 marzo sarà infatti fondamentale trovare i tre punti per gli uomini di Francesco Calzona, che per continuare a sperare in merito alla classifica dovranno dare continuità alla vittoria appena totalizzata, anche contro i bianconeri. Da Castel Volturno, però, le news sono tutt'altro che felici per il tecnico dei partenopei. Alle prese con un infortunio più pesante e serio del previsto. Il referto ufficiale è giunto da poco. Assente dalla trasferta di Reggio Emilia per un problema alla coscia evidenziato alla vigilia del match contro il Sassuolo, Cajuste ha avuto quest'oggi modo di far particolarmente preoccupare Mister Calzona. Dopo lo stop, infatti, il centrocampista svedese si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, che hanno dato esito tutt'altro che positivo. Di seguito, il comunicato ufficiale della SSC Napoli. Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo, semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l'iter riabilitativo. Analisi alquanto pesante per il calcio Napoli e per Cajuste stesso, cui tempi di recupero saranno ora da valutare. Lo svedese salterà però al 100% l'incontro di domenica contro la Juventus, con i dubbi che si estendono anche per le successive e fondamentali sfide contro Torino, Barcellona, Inter e Atalanta. Tegola quindi per Calzona, che perde così una pedina in grado di far ricaricare le pile ai titolari del centrocampo nonché capace di portare presenza fisica nel reparto negli ultimi minuti di gioco, quando rafforzare la squadra diventa fondamentale soprattutto nei big match. La condizione degli azzurri, inoltre, si aggrava anche a causa di un ulteriore e possibile lungo stop. Oltre a Cajuste, anche Cyril Ngonge è alle prese con un infortunio rivelatosi più lungo e serio del previsto. Il belga, fuori dalla vigilia del match fra Napoli e Barcellona, continua infatti a patire i propri problemi alla caviglia, che lo hanno portato quest'oggi a svolgere nuovamente una seduta di allenamento personalizzato in palestra. L'ex Verona, che non prende parte a sessioni in gruppo ormai da una settimana, resta quindi in dubbio per Napoli-Juventus nonché per i successivi impegni partenopei, sebbene le sue condizioni siano ben migliori rispetto a quelle di Cajuste. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti la nostra squadra del cuore. Grazie per l'attenzione e arrivederci a tutti. Forza Napoli sempre e tutto per lei.